L'avventura alla Supercoppa dell'Epica Sabrindisi si ferma in semifinale. I bianco-azzurri perdono 72-67 contro la più quotata Armani Exchange Milano, ma escono a testa alta dal campo dopo aver disputato gli ultimi due quarti alla pari. I primi dieci minuti sono di studio, con Brindisi, che prima subisce, poi, grazie alle invenzioni di Redivo, torna in partita, chiudendo sotto di sé il primo tempino 21-15. Coach Frank Vitucci da una parte e Ettore Messina dall'altra fanno ruotare molto le panchine. Il tecnico dell'Olimpia schiera Mitoglu sotto i tabelloni e mette in difficoltà la difesa bianca-azzurra. Milano ha più benzina in corpo, gli esterni stentano ad entrare, ma sono i lunghi a regalare il massimo vantaggio. Alla pausa lunga sono 14 punti di ritardo per l'Aepicasa, 27-41. Quando si torna sul parquet, Redivo suona la carica, Josh Perkins lo segue e dopo 8 minuti Brindisi ribalta il punteggio, scrivendo il primo vantaggio 51-49. Ad un Olimpia Milano in affanno risponde una new basket che va in striscia, positiva al tiro, prende coraggio e al trentesimo è più 5 per i pugliesi, 56-51. L'ultimo tempino equilibrato si segna da una parte e dall'altra. Gli uomini più esperti dell'Olimpia, come Dilenei, Heinz e Holl, prendono la squadra per mano portandola alla vittoria. Da domani testa al campionato, domenica 26 si comincia con la trasferta di Trieste.